Buongiorno a tutti, bentrovati in questo nuovo video. Un saluto a tutti da Max, parliamo di Amici22 perché c'è stata una, no eliminazione, una doppia eliminazione. Questa è infatti la notizia bomba che si è ormai diffusa su tutti i principali siti di gossip, siti di tv, canali youtube che diffondono notizie e pagine facebook. I primi però a fare la comunicazione su quanto è avvenuto è stato SuperguidaTV che ha saputo in anteprima i nomi, i nomi proprio di coloro che hanno abbandonato la scuola di Maria De Filippi. Hanno un attimino provato a reggere la situazione ma alla fine la decisione più triste si è materializzata davanti ai loro occhi. Il pubblico assisterà a tutto questo nella prossima puntata in onda domenica 20 su canale 5. Ma ormai non ci sono dubbi in merito, Amici22 perde due pezzi della scacchiera, eliminati in maniera proprio definitiva. Intanto Raimondo Todaro è finito nel mirino della ballerina diciottenne Megan che ha scoppiato in lacrime per quanto subito e ha detto mi sento come se tutto il lavoro che sto facendo non venisse riconosciuto. È sottovalutato e mi dispiace molto. Non ho visto apprezzamento del lavoro che ho fatto e lui mi ha sistemato tante cose e mi ha scombussolato tanto. Mi sto facendo il mazzo per arrivare alla decenza ma vedo che lui non lo riconosce. Quindi in questo caso SuperguidaTV ha informato i telespettatori che nel prossimo appuntamento due allievi non ci saranno più tornando all'argomento iniziale e dovranno quindi salutare il resto dei compagni e dei professori. Possiamo subito dire che ad andarsene sono stati un ragazzo ed una ragazza. Sospiro di sollievo per tutti gli altri concorrenti che automaticamente si sentono fuori da questo, no? Che hanno l'opportunità di continuare il loro percorso nella trasmissione e proseguire quindi il loro sogno di approdare al serale e di diventare ovviamente famosi, che è lo scopo di tutti. Dardust è stato incaricato di valutare i cantanti e il peggiore è risultato essere Ascanio. Per lui è stata disposta alla sfida all'insegnante Lorella Cuccarini che ha perso con Angelina. A stroncarlo è stato Carlo di Francesco che gli ha quindi provocato il suo addio alla scuola. Poi però è avvenuta anche un'altra eliminazione, infatti parlavamo di due, no? Stavolta però nel campo del ballo. Sono stati due professori a mandare in sfida l'allieva del programma che non è riuscita a superare il confronto con un'altra ballerina e ha quindi perso la possibilità di poter rimanere. A lasciare la scuola di amici, dopo essere stata messa in sfida ad Alessandra Celentano e Emanuele Lou, è la ballerina Claudia, perdente nel confronto diretto con Isabel. E dunque signori, due allievi meno da Maria De Filippi, ma per tutti i dettagli occorrerà attendere proprio la puntata, quella effettiva, del 20 di novembre. Ne sapremo riparlare, ma nel frattempo vi ringrazio per l'ascolto di questo video. Noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live, come al solito.